Radio Bruno Presidente, 20 giorni fa è stato lanciato un appello ma soprattutto un allarme per quanto riguarda lo switch off della piattaforma, diamo un breve aggiornamento? Allora sì, siamo partiti con questo switch off, Anac ha messo in moto le nuove piattaforme, purtroppo non era stato immaginato di creare un periodo transitorio in cui si passasse dall'analogico, quindi ancora da vecchie portali a quello digitale, quindi dei portali più evoluti e ci sono stati diversi problemi. Anac ha messo in moto delle piattaforme che non erano esattamente perfettamente funzionanti, fatemelo dire così, questo ha creato molti problemi nei comuni, soprattutto per i tecnici incaricati che non riuscivano a creare gli smart CIG. Questa è una delle prime operazioni per un ente, una pubblica amministrazione per riuscire ad accedere ai fondi PNRR e per fare delle gare di appalto. Questo ha creato una serie di problemi con un rallentamento di tutte, quindi la gestione del processo dei bandi di gara. Allora su questo abbiamo cercato, siamo intervenuti, abbiamo sollecitato tutti gli onorevoli che sono stati eletti nel nostro territorio, quindi in tutta la provincia di Brescia, per far sì che si adoperasse e abbiamo portato il problema anche ad Anac a livello nazionale. I temi quindi sono che non riuscivano ad accedere, i tecnici delle pubbliche amministrazioni questi ci hanno posto e si sono diventati molto più complessi, per cui il tempo con cui una volta facevano questa lavorazione è diventato quattro volte più lungo. Per cui non è possibile immaginare che il digitale ci porti ad appiggiorare quello che è l'obiettivo di riuscire a gestire i lavori, soprattutto in un periodo come questo di PNRR, dove i tempi di scadenza di queste operazioni sono ormai fissati, fissati dall'Europa, non dallo Stato nazionale e poi tutto diventerà sempre il tempo più stretto per fare i lavori, con il rischio che questi vengano fatti male, magari in capo rischiando sempre di più sulla sicurezza, barra rischiando di non prendere e quindi perdere i fondi europei. Ad oggi abbiamo delle risposte, ma soprattutto delle date in cui questo problema tenderà a sminuire? Delle date non sono arrivate, è uscita una circolare qualche giorno fa, a fine settimana scorsa, da parte di Anac, che dice che i numeri stanno migliorando, che hanno risolto tutto questo tipo di problematiche. In realtà da 113.000 SmartChic che venivano rilasciati prima siamo passati a 96.000 e comunque sembrerebbe un numero quasi simile, ma ci stiamo in mezzo, c'è un 20% di numeri in meno. Quindi se la mettiamo in percentuale una differenza di produzione del 20% per noi è ancora molto significativa. Anac sta cercando di porre rimedio, non ci ha confermato né date né altro in cui riuscirà a risolvere questo tipo di problema. Un suo consiglio agli operatori del settore che si trovano penalizzati da questo problema? In realtà non è semplice dare un consiglio ai tecnici comunali, se non quello provate a contattare, se volete qua in Ance proviamo a raccogliere tutte le problematiche che emergono in modo da metterle a fattore comune e porre ad Anac dei quesiti specifici su delle singole problematiche, perché su questo riusciamo a essere probabilmente più incisivi. Come tutte le volte che si attiva un software nuovo, capite che poi si cerca di immaginare tutti gli scenari e le casistiche, spesso chi scrive il software non immagina tutte le casistiche, dal piccolo lavoro al grande, da quello più o meno complesso, quello o meno, e proprio in tutti questi dettagli può essere che, anzi sicuramente questa è la dimostrazione, non sono stati pensati tutti questi casi e quindi la piattaforma in diverse parti si blocca. Quindi se riusciamo a raccogliere questo possiamo andare a fare delle richieste specifiche ad Anac per vedere di fare e porre rimedio. Come dicono gli inglesi, the devil is in details, cioè quindi nei dettagli, nelle piccole cose, emergono le problematiche, anche se poi la struttura generale più ampia a volte sembra che funzioni sempre tutto correttamente. Quindi ad oggi non ci resta che attendere, sia da parte di Ancec e di Anac, le novità sul funzionamento della piattaforma. Proviamo a raccogliere, noi ci stiamo facendo promotori, perché questo di riflesso, capite che se i tecnici comunali e le PIA hanno problemi, vuol dire che poi di riflesso sul nostro settore nascono altrettanti problemi, perché poi i lavori non arrivano e poi, come dicevo, avremo sempre tempi più stretti per eseguire il lavoro, mentre il lavoro per essere eseguito in qualità e in sicurezza ha bisogno dei suoi tempi corretti.